Luca è in giro nudo va Facciamo il latte al bimbo va Perché gli state dando le canottierine a Luca? Le canottierine? Sì, le smanitate Perché se non si asciuga Perché lui è convinto che gli state dando perché sta mettendo il fisico, capito Rosa? Sì, le dire, le dire perché ho visto che sta mettendo su belle spalle Questo è quello che ti dice Ah, gli piacciono le tue domande Ah, tutte le mattine fa le pressi Ciao Mario Luque L'hai vista la puntata ieri? Mi ha dispiaciuto alla fine Ah vabbè Abbiamo vinto Rosa, le vedie una cosa Stavo più solitamente su un battesico Vieni, guardavo in televisione Rosa, diglielo Che gli dai le canottierine perché? No, adesso cominciamo Si può mettere qualcosa Mi stai prendendo per il culo? No Guarda, vedi che stai a fare il muscolo Ciao Rosa Ci vuole il miele dentro Nini E che mi fate prendere per il culo? No, non si fa a prendere per il culo È la verità, vedi? Che ti ridete? Invece Ma il latte c'è? Si Il latte Che ti ridete per il culo? Che ti ridete per il culo?